Questa è la mia città più grande di Imperium, vedete tutto lo spazio che prendo. È enorme, è sincero, è enorme. Aspetta, vi metto la visuale, ecco. È enorme, ci vorrà un po' di tempo per guardarla, ah, mirarla tutta, un secondo. È sinceramente enorme, è immensa, guardate tutte le case per gli schiavi, anzi, penso che ne farò anche altre. Ci vuole proprio un bel po' di tempo pur di costruirle tutte. Se vogliamo vedere loro, aspettate, costruisco un magazzino. Non lo fa a scrivere, vabbè. Che magazzini. Cioè, ok, andiamo al fuoco. Anzi, non lo faccio vedere, non lo faccio vedere, non lo faccio vedere. Allora, dobbiamo mandare sulla cartella di oro. Qua, materiali. Qua, beni generali, oro. Ho 103. No, lì, no, quello è l'oro. Ho 112. Eccolo lì, l'oro. Poi. Di olio 140, il numero di 97. Stanno anche per finire, vanno a ruba. Ok. Se, sì. Bene, questo potrebbe andare bene. Ciao.